Musica 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 Collezione molto vattata discreta discreta quindi i contenuti sono sicuramente basici, eleganti con dettagli veramente sofisticati e leggiadri mai più forti, imponenti e o invadenti Musica 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 Lavorazioni come queste sempre con lo stesso soggetto fatte in camoscio e sotto al camoscio c'è una vernice che a furia di litigare anzi a furia di passarla sotto la spazzola di levigarle esce fuori proprio questo questo lucido quindi questo effetto sfumato addirittura può essere diverso anche da scarpa a scarpa quindi assolutamente indice in La verdice non può mancare nell'uomo dell'ultimo millennio, appunto, particolari della borsa come questo che si possono trasformare in portachiavi. Questo ritorno anche al basket, un po' degli anni cinquanta, con il fondo cucito, con queste imbottiture mega, in grossa, sì, per la caviglia e con i lacci assolutamente sciolti, ovviamente come di tendenza oggi. Grazie per la visione! Grazie per la visione! FTV.com